se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su xbox o vuoi le completi moddati non esitare a contattarmi, iscriviti a tutti i miei gruppi telegram, next gen e all gen e se siete giocatori di playstation trovate in descrizione gruppi anche per playstation iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale youtube e adesso al nuovo video bentornati regà, qua è xavis che vi parla bentornati in questo nuovo video e benvenuto per chi è nuovo nel canale ragazzi allora vi voglio fare vedere come intro diciamo nella intro, dentro la intro se vi ricordate questo è il glitch che ho portato qualche giorno fa per andare diciamo in god mod con la Issy quindi ci prendiamo il giubbottino ragazzi e poi saliamo sopra il cofano della Issy e facciamo la capriola da un lato regà quindi faccio questa cosa ragazzi per quale motivo? perché facendo i colpi dell'apocalisse quindi dal Bogdan in su quindi un secondo atto, un terzo atto andremo a sbloccare le felpe di Clifford regà cosa facciamo? non proviamo a vedere se non va la god mod in modo da tale poi da farci una mastermind e fare un botto di soldi? ho detto questa è l'occasione giusta per provarlo perché l'ho sempre detto che funzionava ma effettivamente non l'avevo mai provato quindi a questo punto una volta regà che ci siamo fatti la god mod sono stato giusto due minuti a buggarmi ho preso l'invito del mio amico e sono andato direttamente nel caso Bogdan regà ora io non vi sto a fracassare la wallera facendovi vedere il colpo tutto normale raga ve l'ho velocizzato un pochettino se volete passarvi due minuti e regalare 5 centesimi a Savix facendo la visualizzazione e lo fate se no andate direttamente al minuto 9 e potete vedere alla fine dove andare a sbloccare la maglia la felpa, quello che cavolo è comunque vi posso assicurare raga che non ho mai fatto un colpo in god mod e la cosa fa veramente pena o scena veramente mi dispiace fare una cosa del genere perché vi assicuro che non c'è divertimento ma davvero non c'è nessun tipo di divertimento diciamo che se volete farlo per sbloccarlo perché volete fare i soldi non vi volete sbattere cosa ne so fatelo però vi assicuro che non c'è divertimento fare i colpi in god mod anche se vi do la conferma che funziona perché se vi guardate la clip ve la guardate tutta ragazzi cioè pusho come un bastardo vado avanti come se non ci fossero domani e non me ne frega niente di prendere colpi e non c'è divertimento secondo me comunque se state ancora ascoltando Savix raga avete bisogno di un'aggiunta di soldi non azzardate a non contattarmi prezzi scontati mi scrivetemi in privato regà se non avete blocco vendite facciamo a prezzi bassi full account primo e secondo a un prezzo che è stracciato scrivetemi nei commenti se volete invece info per le aggiunte dell'Axo scrivetemi in privato su telegram ragazzi oppure su instagram c'è tutto in descrizione di miei video comunque ora vi lascio al video se volete vedervi colpo in god mod se no schippate direttamente al minuto 9 grazie a tutti Grazie. 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 Quindi, raga, eccoci qua dal nostro cavolo solito di negozio di vestiti e andiamo a cercare dove ci hanno buttato le cosette. E le andiamo a trovare su Bomber, troveremo la felpa Clifford, ragazzi. È veramente carina, si potrà abbinare, secondo me, magari bene ai Jokers Blue. Vediamo, magari in questi giorni, di portare un outfit con queste nuove felpe, ragazzi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like, lasciate un commento, supportatexavix, condividete i miei video altrove, ragazzi. E niente, alla prossima, sbadabam! Grazie. 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 Grazie.